Ciao a tutte lettrici di Pink Magazine, sono Anna Premoli e sono qua per farvi gli auguri di San Valentino. Io e i miei amici Ludovico e Ginevra di tutto posto tranne l'amore. So che potrebbe sembrare un controsenso parlare della storia d'amore di due divorziati proprio il giorno di San Valentino ma a me piace essere un po' differenti in queste cose per cui credo che il vero sentimento sia quello che riesce a passare oltre le sfide più difficili e il divorzio in effetti potrebbe essere una sfida sufficientemente grande. Perciò Ludovico e Ginevra sono secondo me l'emblema di due persone che di fronte alle difficoltà di una vita concreta riescono a superare la rabbia che li ha allontanati negli anni e a ritrovarsi per riscoprirsi e ritrovare un nuovo modo di comunicare. Oggigiorno credo che ci sia poco che possa essere più romantico di una continuità di dialogo che dura da anni e anni. Perciò un bacio e ancora una volta buon San Valentino!